bella regà bentornati sul mio canale buon lunedì a tutti e buon inizio settimana allora regà innanzitutto sti due giorni sono un attimo sparito dalla situazione perché ho avuto dei problemini è un po di concentrazione un po di poco tempo a mia disposizione comunque torno a fare video innanzitutto regà per quelli che mi seguono i pokemon vi dico una cosa ci metto la croce sopra non porto più poco perché tanto vedo pure che l'interesse globale sta scemando nel senso che comunque sia non è come non è così intenso come qualche poco qualche mese fa quando c'era anzi anzi no tra quando da quando uscito pokemon bo parlamo sei chiaro perché il boom è stato lì anzi del ritorno di fiamma di fuoco di noi altri che appunto ci siamo ributtati sui pokemon eccetera sulla conoscenza eccetera comunque a parte questa questa cosa da dire dichiaro ufficialmente aperta regà la terza lotteria tra la linea xl 2017 e 2018 dai e così dai e forte vi presento subito il premio che ovviamente ricordo va ad un unico vincitore come al solito estrarò e due e tre nominativi ma solamente il primo alla precedenza sugli altri no ovviamente poi se il primo non si fa sentire per totte giorni sarò io a comunicarlo al secondo estratto al secondo nominativo e di chiedergli appunto dammi dammi i tuoi dati che così io possa spedire allora innanzitutto vorrei salutare il partì il vincitore della prima della seconda lotteria che è giuseppe tirino se non sbaglio lo voglio salutare perché sinceramente è sparito dalla situazione perché gli ho mandato il pacchetto con il premio gli ho chiesto tramite messaggio se era tutto ok che quanto quanto meno pure sarei scontento insomma del fatto che si era concretizzato questo questa lotteria però non ho avuto nessuna risposta però ve lo faccio pubblicamente qui lo saluto e fatti sentire nei commenti nei messaggi dove pare detto ciò regà ecco qua faccio vedere il premio ho inserito questa volta delle carte plus come potete vedere eccole qui veramente ne ho le tasche piene di queste carte potrei fare uno sparo spacciatore veramente per intenderci di di queste carte per quante ne ho in questi due giorni regali di mia assenza ho anche aperto altri due box che però non ho trovato nulla di buono a parte un candreva stella che mi mancava tutt'altro tutte le altre doppie regali dove dovete crede sono a meno 50 dal completamento della della collezione però comunque sto fermo lì attualmente non sono interessato a fare scambi cerco un attimo di temporeggiare con gli acquisti e dare priorità alle vendite e chi fosse interessato regà in vendita ho tantissime carte per esempio una sessantina di queste plus tra plus base card plus e così le chiamo io poi allenatore plus top plus c'è un'asta dedicata solamente alle plus in sostanza poi ciò regà ho messo in vendita anche unicardi top player il quale ho trovato nel nei due box che vi stavo appunto dicendo poco poco fa ho trovato anche un'altra card invincibile un nicola calenic regà stella top plus doppione che sta in vendita e già con un'offerta mamma mia regà meno male insomma cerco anche di di rientrarci un po con le spese ma tanto non sarà nel senso che non sarà così perché regà parliamo se chiaro io spendo ho speso 100 ma ne guadagno 20 25 in sostanza è quello perché purtroppo la panene non c'è da la possibilità a noi altri di completare la collezione come si deve non so nel primo a dirlo perché ho detto quella sul forum che comunque sia essendo anche consapevole del fatto dato che ho un'esperienza vissuta su questa cosa che vi sto dicendo vi sto parlando che praticamente nei box si devono tantissime doppie veramente cosa brutta allora per per torno un attimo qui a al premio ecco qui un super draft che purtroppo questa carta è rovinata ma io così l'ho trovata per chi segue le mie le mie aperture un nicolò barella tra super draft e infine regà ovviamente tutte le carte hanno ancora il codice da sbloccare sul sito online per chi dovesse giocare insomma lo dico a titolo informativo poi regà è finalmente come vi ho promesso come vi ho promesso questa carta ma non ha neanche bisogno di essere presentata me la state veramente chiedendo in tantissimi cioè veramente diventa la più rara e più richiesta questa carta più che la la plus no la top plus top player plus ecco non mi veniva scusate il piccolo lapsus comunque questa regà veramente me la chiedete in tantissimi e sta di fatto che avendo la tre copie una per me anzi no tre doppie addirittura una una per me e tre da 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 spacciare così da dedicarvi ecco la la dedico qui in come premio in lotteria ad real in regà paolo di bala stella è una carta ripeto che mi chiedete in tantissimi e finalmente esaudisco i vostri desideri perché non ve non ve scordate che io sto anche qui per voi per farvi felici farvi contenti anche se purtroppo riscontro delle di utenti che non manco li voglio chiamare maleducati perché evidentemente non è questione di educazione ma semplicemente offendono senso motivo almeno motivatele queste offese dalla scimmia regata al negro cioè sinceramente sono cose che a me non mi sfalziscono come si dice insomma non me tangono non me tangono non me danno veramente in modo di pensare a voi perché ricordate che quando l'ignoranza parla l'intelligenza tace ok ricordiamo se sta cosa e poi regà l'invidia è una brutta bestia però rende meno rende ancora più forte il sottoscritto e sia chiaro io non sono una persona che si offende per così poco perché parla parliamo se chiaro regà c'è stanno un sacco di problemi nella vita non sono questi non sono carte ma la povertà la fame eccetera la guerra eccetera eccetera comunque concludendo due limited edition qui si inglese e cerci ennesimo cerci che veramente ce ne ho tantissime copie ne potrei veramente regalare quella dunque questo è quanto rega questo è il premio che io vi dedico a questo giro comunque rega se volete partecipare regole sono sempre le stesse ovvero quello di mettere mi piace di lasciare un commento con l'hashtag partecipo quanto mi piace che quando lo lasciate quando si vede quel bel colore azzurrino del vostro commento ma regà vi posso dire una cosa se questo se questo video comunque di partecipanti o papa in generale magari c'è chi guarda questo video mette mi piace ma non partecipa potrei azzardare regà mettere anche un'altra carta che è un attimo solo che la sto cercando non me la sono preparata ma già la miseriaccia eccola qua l'hdm un attimo solo regà mamma mia poi non dite che non ve vizio è manco babbo natale fa sti regali eccola qui regà se sto video dovesse raggiungere almeno i 150 e 200 like metto in premio anche l'hdm supereroi anche un'altra carta praticamente che ho trovato in questi giorni aprendo il box veramente regà c'ho tantissime carte c'ho ancora troppa roba allora basta così regà io vi ringrazio per guardare il video la pazienza che comunque sia avete nel nel aspettare appunto questi miei video la gioia che provate perché molti di voi me l'hanno fatta me l'hanno scritto nei commenti mi fa piacere regà che siete presenti mi raccomando partecipare in tanti e chi m'ho offeso regà vedete che la verità non c'ho manco voglia di starlo a sentì lo scarto a prescindere perché sinceramente vanno premiati coloro che si che che si comportano bene perché nella vita è così più te comporti bene più ricevi il bene e te comporti male ricevi il male va bene che a volte capita pure che se te comporti troppo bene prendi in quel posto però regà 90 per cento dei volte ricevi sempre il bene se te comporti bene mamma mia regà quanto so forte pirla di saggezza un buon proseguimento regà buona giornata mi raccomando partecipate in tanti un buon proseguimento alla prossima ciao ragazzi a non dimenticate questa lotteria per iscriverti tre giorni ci vogliono e poi passo all'estrazione ciao ciao ragazzi